Ciao ragazzi, benvenuti, aiuto, benvenuti tutti in un nuovo video. Oggi siamo nel gioco di Morder Mystery 2, che sarebbe il mistero dell'omicidio, in italiano. Oggi, ecco, stavano giocando gli altri, e io tipo non avevo capito che stavano giocando. E questa qua, proprio, se ne cava... Wow, vabbè, io ho il singhiozzo oggi. Vittoria del gatto. Oh, nice. Aiuto, aspettate. Amora, si comincia il gioco, aspettiamo qua. Per favore. Ok, grazie papà, che mi hai dato la... Ok, ragazzi. Vabbè, io vado qua perché è più facile. Qua ci sono più posti... E già qua vi potete nascondere. Oggi siamo innocenti, che schifo. Ormai tutti odiano gli innocenti. Ok, tre, due, uno... Qua già vi faccio vedere che c'è un posto segreto nella tv. Se già lo sapete non mi interessa. E se gli altri lo sanno, va bene. No, ma già... Io ho paura, raga. Ho paura. Perché, raga, già ho sentito... Qualcuno... No. Non ditemelo. Ora abbasso il volume. Aspettate, ragazzi, che dopo riavviamo. No, ragazzi, no. Abbiamo perso. No, abbiamo vinto. E dopo sono stata su... Uccidi. Vabbè, ucciso. Per favore... Oh, io farei già office. Bellissimo l'office. L'ospedale... Chi lo vorrebbe l'ospedale? Tu come fa... Ok, ragazzi... Arriviamo subito. Aspetta che mi metto le scarpe. Ciao. Ragazzi, inizia dal gioco. Io sto ancora mettendo le scarpe. Aiuto, per favore, non mi gioco. Almeno, ragazzi. Almeno. Sono buona. Sono murre. Io non... Non ho nemmeno... No, non dimmi qua. Già sono morti tutti, guarda. Cadaveri! No. Ciao. Ciao. Quanti cadaveri... Aspetta. No. Lo sapevo. E l'arei. Che co. Vediamo quante cose abbiamo qua nello summer. 101. Oh. Lo voglio. Ma come si fa? Lo voglio... Ah, forse... Ne servono 200. Wow, aspetta... Aspetta, raga, che vedo... Questo è quello che uccidevamo. E vai in tutte le parti le... Ecco. Ecco, ha vinto. Se avrei solo quei due cosi... Io già tiravo... Tutto quanto hai, tutti. Per favore, esci! Per favore! Ok. Io farei mansion 2. Mi piace tantissimo. Guarda. Votano 4 e va bene. Siamo pari. Aiuto. Era bello se c'era un hobby qua. Perché io amo così tanto gli hobby che... No! Sono salita! Sono Tar... Ma chi è Tarzan? Tarzan? Tarzan! No, ma perché? Ogni volta è innocente. Io ci metto due... Due... No, due minuti. Due... Due anni a essere un murder... Cioè, un murder... A essere un assassino. Qua siamo su MM2. Aspetta che prendo qua le palline che... E vabbè, questa è la doccia. Non mi guardate. Ecco. Siamo così. Ragazzi, mi vedono tutti col shift. No, non dirmi che è l'uno. No. Perché dopo dico... No! Ma come... Come si permette... Vai. Ma qua c'è scritto 95. Come si... Ah, sì, è vero. E vabbè, vediamo qua cosa abbiamo. Inventario. Beh, non abbiamo niente. Classifica. Persone. E la prima è... Angel. Sono la seconda. E a darle la richiesta se è una forever. E... Ragazzi, per ora sono a casa. Ma che ore sono? Beh. E mentre guardiamo lei... Evie Rose. Cosa ci... Ha vinto. Scusa, Angel. No, ma ragazzi. Ma ragazzi. Ma ragazzi. Beh. C'era una canzone a scuola che diceva... Ma ragazzi. Ma ragazzi. Beh. Meglio. Ciao sceriffo. Ti... Ti bibi. Beh. Andiamo. Dai. Esci. How's to... Gigi. Ok, ragazzi. Vabbè. Non sanno che sto registrando. Io ho registrato appena lei. Bellissima. So cute. Beh. Non ho i robux. Come sapete. Ma do! Sì, ci metterò due anni. Cioè, non sono neanche una... 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 Così. Guardate. Sono pro... Non sono tanto pro. Ma non dirmi che è lui. No, è lei. No. Ok. Raga, già non sappiamo se... Quella... Quella proprio nuda... Ah, wow. Quella proprio naked e... E cioè... Naked, vai. Quante... Ah... Vai. Non l'ho nemmeno incontrato quel tipo. Sì, ma come cavolo faccio? Ragazzi, ditemi nei commenti... Come faccio a prendere questo? E come si fa? Vabbè. Anche se non lo so. Perché... Questa è tipo la mia seconda volta. O qualsiasi cosa. No, vabbè. Ragazzi, raga. Ogni volta. Vabbè. Aspetta che mi resetto. Già sono morta. Wow. Proprio in partita che non mi ha ammazzato nessuno. Vabbè. Perché volevo vedere. Niente. Aiuto. Ma chi è la... Forse lei? No. A me mi sembra di no. Vabbè. Bellissimo. Lei ma sembrava U2K. Ha vinto lei perché... Eh. Lei non era lei. Vabbè. Stavo FK. Ah. Era lei. Proprio Giulia Jones. Giulia Jones. Ok, ma stai zitta Giulia Jones. How's it to? A me mi piace. Vabbè. In che senso? Che io... Oh. Devo andare nel balcone. Make bananas. Aiuto. Vediamo. Ok. Ragazzi. Oggi concludiamo il video con un saluto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.